Signora, secondo lei chi lo vince questo festival? La mannoia, sicuramente. Signora, secondo lei chi vince questo festival? Mezzo Elodie, Elodie. Sono d'accordo con mia sorella, Elodie, sì. Anche io, ci siamo tutti per Elodie, ci piace. Elodie, Elodie. Alla verità non l'ho seguita ancora per niente, non l'ho seguita. Un cantante preferito, una cantante? No, no, niente. O Gigi D'Alesso, però è uscito, mi dispiace. Fiorella Mannoia, anche io Fiorella Mannoia, però, eh? Fiorella Mannoia. Non ho idea, penso che Fiorella Mannoia abbia un sacco di possibilità. Secondo lei chi lo vince questo festival? Lo vince la Basilicata. Sì, 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 confermo, la Basilicata, no, dai. Fiorella Mannoia. Clementino, senza dubbio. Clementino, Clementino. Per me è Clementino. Signora, secondo lei chi vince il festival? Spero tutta la vita Fiorella Mannoia. Eh sì, no, assolutamente. Pezzo da urlo, Amara ha stata bravissima a scriverlo e l'intensità di Fiorella Mannoia nel cantarla è una cosa pazzesca. Quindi deve vincere. Grazie. Ciao Samuele, ciao Denise. Io sono Tommaso Pini, da San Reco, mi è bravo, mi sono un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Grazie. Grazie.